Il commissario dell'Ulse 15 Alta Padovana Claudio Dario ha nominato la nuova direzione strategica. Stefano Formentini è il nuovo direttore sanitario, Maurizio Zanonne il nuovo direttore amministrativo, Gianfranco Pozzobon rimane il direttore dei servizi sociali. Il direttore generale ha quindi inteso rispettare i tempi che si era prefissato per consentire all'Ulse 15 di avere continuità nell'assetto organizzativo, provvedendo alle nomine nei primi giorni di febbraio. Stefano Formentini è l'attuale direttore medico del presidio ospedaliero di Cittadella, Maurizio Zanonne invece dopo aver ricoperto il ruolo di direttore amministrativo dell'Ulse 16 torna all'Ulse 15 dove ha già svolto il ruolo di dirigente nel Dipartimento Risorse Umane. Gianfranco Pozzobon continuerà a svolgere le sue funzioni di direttore dei servizi sociali essendo in carica fino al prossimo 29 febbraio. Il direttore generale, come aveva anticipato al suo insediamento, ha mantenuto la parola creando in tempi rapidi la nuova squadra al fine di dare continuità alla gestione dell'azienda.